come com'è Sergio non devi star fuori se stai fuori il canaletto con le foglie prendi qui qui fino a destra uscire 2 uscire uscire fino a destra il cimitero del Montesa bravo certo da lontano ma certo no è lunghissima la sua è lunghissima non puoi venire su in prima di qua manetta in prima può venire su c'ha le marce lunghissime e qua è l'acqua l'ha portato via che se tu l'allarghi così diventa un sentiero certo 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 qua